Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Al porto scolastico fino al 10 febbraio basterà solo la mascherina FFP2. Servirà il Super Green Pass non solo per le consumazioni al banco e al tavolo al chiuso, ma anche per quelle all'aperto in bar e ristoranti. Certificazione verde rafforzata necessaria anche per alloggiare nelle strutture ricettive e per usufruire dei servizi di ristorazione interni al chiuso e all'aperto. Serve il Super Green Pass anche per l'attività sportiva o motoria, all'aperto e al chiuso, in palestre, piscine, centri natatori, così come per l'accesso agli spogliatoi e alle docce. Necessario anche per sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi all'aperto e al chiuso e per sport di contatto al chiuso. Col Green Pass rafforzato si dovrà accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura, compresi archivi e biblioteche. Serve anche per i centri culturali, centri sociali e ricreativi. Senza Super Green Pass non si può partecipare a feste conseguenti, a cerimonie civili e religiose, né a sagre e fiere, anche su aree pubbliche, né a convegni e congressi, sia all'aperto sia al chiuso. Necessario il Super Green Pass per centri benessere e centri termali all'aperto e al chiuso, così come per parchi tematici e di divertimento. Da oggi il Green Pass rafforzato è necessario anche per l'accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino. Sempre da oggi inoltre si accorciano i tempi per la somministrazione del booster. Sarà possibile riceverla dopo almeno 4 mesi dalla conclusione del ciclo primario, anziché 5. Si aprono inoltre le somministrazioni della dose aggiuntiva per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Riprendono le lezioni scolastiche in presenza come voluto dal governo malgrado l'aumento del numero di contagi da Covid-19. Il MIUR ha inviato a tutte le scuole una nota operativa con le indicazioni da seguire negli istituti scolastici all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge anti-Covid. Per la scuola di infanzia, con un caso positivo, tutta la classe va in quarantena per 10 giorni e si ritorna in presenza solo dopo esito negativo di tampone. Per il personale scolastico ed esterno si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio. Per la scuola elementare, con un solo caso positivo, si resta in presenza ma se effettua un tampone antigenico o molecolare, il tampone va poi ripetuto dopo 5 giorni. L'esito negativo del test permette il rientro in presenza, in caso di esito positivo invece è necessario contattare il dipartimento di prevenzione della propria ASL o il proprio medico o pediatra, assolutamente vietato recarsi a scuola. Mentre per il personale scolastico ed esterno si applica l'autosorvedianza con tampone da seguire subito dopo 5 giorni. In caso di due o più positivi, la classe adotterà la didattica a distanza per 10 giorni, seguendo una quarantena della stessa durata che avrà fine dietro esito negativo del tampone, mentre il personale scolastico ed esterno seguirà le regole per i contatti stretti ad alto rischio. Per le scuole medie e superiori, con un solo caso positivo, la classe resta in presenza. Con uso obbligatorio delle mascherine FFP2, il personale scolastico ed esterno applicherà la misura dell'autosorvedianza. Con due casi positivi verranno applicate misure differenti in base allo stato vaccinale degli alunni. Non si può obbligare nessuno a essere esposto al contagio se esiste uno strumento, la didattica a distanza, che può ridurre questo rischio. E quanto ribadito dal governatore pugliese Michele Emiliano, in un messaggio privato inviato in risposta a una coordinatrice di un gruppo di genitori, questo diritto, prosegue il governatore pugliese, viene attualmente riconosciuto solo agli studenti fragili e spero anche ai familiari conviventi di altri studenti con difficoltà. Ma secondo me questo aspetta a tutti. Nel frattempo c'è anche chi si schiera tra gli studenti. È il caso della 17enne Martina Toma, rappresentante d'Istituto del Liceo Linguistico Ettore Palumbo di Brindisi, che ha lanciato un sondaggio tra gli studenti, partito dalla Puglia e arrivato in tutta Italia. Di tutti coloro che hanno risposto, il 92% vuole la DAD, circa 284 mila alunni delle superiori. Torniamo a scuola con preoccupazione e delusione, ha spiegato Martina, non si può giocare con i dadi, la sorte di noi studenti. Cominciate in Puglia le prime somministrazioni della pillola anti-covid. Sono cinque i primi pazienti a riceverla, tutti fragili, contagiati da poco e con sintomi moderati. Uno di Bari, due di Altamura e due di Foggia. Secondo quanto dichiarato dalla nota ufficiale della regione, l'obiettivo è di evitare l'ospedalizzazione. La cura dura cinque giorni e prevede l'assunzione di quattro pillole al giorno per due volte. Al momento la regione possiede 240 scatoli di questo medicinale. Secondo il dottor Felice Spaccavento, il lagevrio riduce la sintomatologia lieve e moderata nei pazienti affetti da covid-19 e ne evita il peggioramento. La terapia autorizzata dall'AIFA alla fine dello scorso dicembre è particolarmente indicata per i pazienti fragili con età superiore ai 18 anni. Siamo sempre all'avanguardia, ha dichiarato con soddisfazione il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, non solo nelle vaccinazioni e nel potenziamento della rete ospedaliera, ma anche nel cogliere immediatamente ogni novità scientifica che ci offra la possibilità di ridurre i rischi per i pazienti positivi e indirettamente di abbassare la pressione sugli ospedali. E proprio a proposito della rete ospedaliera, Pierluigi Lopalco ha proposto di creare delle aree separate negli ospedali per chi si ricovera per un qualsiasi motivo e scopre all'ingresso del nosocomio di essere affetto da covid-19. Il sistema ospedaliero, scrive l'ex assessore alla sanità della regione Puglia, non sa più dove mettere questi casi. Bisogna creare delle aree di isolamento all'interno dei reparti non covid, se non altro perché non possiamo tenere aperti a vita gli ospedali covid. Per Lopalco questo significherebbe attuare una vera strategia di convivenza con il virus nei nostri ospedali, precisando però che questa sua idea, proposta alla regione Puglia a tempo debito, non è mai stata accolta. A ritmo attuale da qui a due mesi, oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del covid, lo ha detto il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa, Hans Kluge, in un briefing sull'andamento della pandemia del vecchio continente, aggiungendo che la regione europea ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che raddoppiati in un periodo di due settimane. Al 10%, 26 paesi hanno segnalato che oltre l'1% della loro popolazione sia ammalata ogni settimana. Le scuole ha poi detto Kluge siano gli ultimi posti a chiudere i primi a riaprire. Lasciare le scuole aperte ha aggiunto a importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini. La Puglia potrebbe rientrare molto presto in zona gialla. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio, nuovi contagi covid nella regione sono aumentati del 52,9% rispetto a 7 giorni prima e i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 1.756. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, evidenziando anche che negli ospedali il tasso di occupazione dei posti letto è sopra soglia di saturazione in area medica, attestandosi al 17,2%, oltre il limite del 15%, mentre in terapia intensiva è del 9,9%, ormai prossimo al limite del 10%. Questi indicatori potrebbero decretare il passaggio in zona gialla della Puglia a partire da lunedì prossimo. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio, la provincia con il maggior numero dei casi ogni 100.000 abitanti è stata quella di Bari, mentre a Taranto si registrano 766 casi. Sempre secondo le stime di Gimbe, in Puglia sono ancora liberi 355 posti letto in area medica e 50 in intensiva prima del passaggio in zona arancione. Covid Italia e nuovi casi positivi sono 186.253 e 360 i decessi. Cala ancora rispetto alle scorse settimane il numero di test processati nelle ultime 24 ore, 1.132.309 tamponi, mentre il tasso di positività sale leggermente al 16,4%. Sul fronte della pressione ospedaliera si segnale un aumento di 11 unità in terapia intensiva per un totale di 1.679 pazienti. In salita anche i ricoveri in area non critica di 371 unità per un totale di 18.019 degenti. In Puglia invece i nuovi positivi sono 9.757, a cui si aggiungono 14.647 casi provenienti da test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie pugliesi e registrati nel sistema operativo della regione. Il tasso di positività odierno su 75.448 test è del 12,93%, in calo rispetto al 15,49% di sette giorni fa. 8 i decessi riportati nelle ultime 24 ore. Con 8.000 prenotazioni già in agenda è partita ieri sera in tutta la Puglia, l'iniziativa La Notte Giovane, le sessioni vaccinali straordinarie anti-covid dedicate ai pugliesi tra i 12 e i 19 anni, in programma da venerdì sera fino a domenica dalle ore 20 a mezzanotte, in 34 hub distribuiti nelle sei province pugliesi. I nostri giovani, ha commentato il presidente Michele Emiliano, stanno scrivendo una bellissima pagina di partecipazione con l'adesione massiccia alle sessioni vaccinali notturne che sono in corso negli hub della nostra regione. Le prenotazioni, conclude il governatore pugliese, restano aperte per dare al maggior numero di ragazze e ragazzi la possibilità di vaccinarsi. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito su disposizione della Procura una perquisizione nei confronti di un giornalista, redattore del servizio stampa dell'Aggiunta regionale della Puglia, indagato per concorso in rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale, obiettivo acquisire elementi probatori che consentano di identificare un pubblico ufficiale che avrebbe rivelato al redattore l'esistenza di dispositivi di intercettazione ambientale negli uffici della regione Puglia usati dall'ex numero uno della protezione civile Mario Antonio Lerario. Il giornalista, secondo l'accusa, avrebbe poi informato Lerario della presenza delle cimici, aiutandolo così a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria rimuovendo le microspie dagli uffici. Una virata verso il metano, così il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, spiega il futuro indirizzo del siderurgico. Siamo vissuti per 250 anni in una situazione di energia molto abbondante e a basso costo, ha spiegato Bernabè in una intervista al Corriere della Sera. Prima il carbone, poi il petrolio e più recentemente il metano. Non c'era mai stato bisogno di concentrarci sulla ricerca di alternative. Bernabè annuncia poi la collaborazione con il premio Nobel Carlo Rubbi ai ricercatori del Politecnico di Milano e aggiunge le fonti rinnovabili come l'eolico e il fotovoltaico ha dichiarato, sono la prima risposta quando si è capito che la rapidità con cui si sta accumulando la CO2 in atmosfera creerà senz'altro delle conseguenze inaspettate. Si sono concluse le elezioni del Consiglio Provinciale Tarantino. Con l'1,6% vince la coalizione giallorossa, la lista terraionica 2050 composta da PD, Movimento 5 Stelle, Articolo 1, Conemiliano, Italia Viva e liste civiche. Ha avuto la meglio sul centro-destra con il 50,8% dei consensi contro il 49,02% eleggendo sei consiglieri. Il candidato di Articolo 1 attuale presidente del Consiglio Comunale di Grottaglia, Aurelio Marangella, è risultato il più suffragato con 7.446 punti. Soddisfatto il presidente della provincia Giovanni Gugliotti. Il risultato elettorale spiega confermato la centralità dell'area civica e moderata con la quale appare necessario collaborare per costruire un progetto vincente per il governo del territorio. Raggiunto un'intesa nella conferenza Stato-Regioni sul protocollo anti-covid per gli sport di squadra. Il nuovo protocollo, che ora sarà sottoposto all'approvazione del CTS, prevede che superato il 35% di positivi del gruppo atleti, esclusi quindi i membri dello staff, la squadra si è bloccata dal continuare l'attività sportiva. In caso di un positivo all'interno della squadra, i membri della stessa dovranno sottoporsi per 5 giorni a test antigenico e devono indossare la mascherina FFP2 in ogni contesto, tranne quello di allenamento e indipendentemente dallo stato vaccinale. I casi positivi saranno invece posti in quarantena. Infine, 4 ore prima della gara, i membri sono tutti sottoposti a nuovo test antigenico per coloro che entrano in contatto con la squadra in modo non continuativo, saranno valide le norme contenute nelle indicazioni ministeriali per i contatti a basso rischio. Ambiamo ad essere centro di riferimento per il foiling e le sue barche volanti e sull'onda dell'entusiasmo per la nuova generazione di atleti che sta nascendo qui e per il SailGP. Oggi Taranto e il suo stadio naturale della rada di Margrande vengono guardati con molta attenzione in ambito nazionale e internazionale. Così Francesco Bonvino, coach del Circo Londabuena, ha commentato l'esito del secondo raduno svoltosi proprio a Taranto per le barche a vela con tecnica foil, che come i blasonati scafi giunti a Taranto per il Grand Prix internazionale, volano sull'acqua regalando emozioni ad equipaggi e pubblico. Gli atleti pugliesi si sono dati appuntamento a Taranto nello scorso weekend per mettere a punto tecniche e svolgere un allenamento intensivo con Francesco Bertone, atleta di vivello classificatosi al terzo posto nel recente campionato europeo di categoria svoltosi ad arco sul lago di Garda. È grande promessa del mondo del foil. Abbiamo un gap da recuperare rispetto agli atleti europei e del nord Italia, commenta ancora Bonvino, ma dalla nostra abbiamo condizioni meteomarine che consentono di allenarsi più giorni l'anno. Questa classe di barche veloci e volanti è cresciuta molto nell'ultimo anno e il ruolo che il sud o piazze come Taranto possono svolgere nell'affermazione di questo settore è esponenziale, ha dichiarato Bertone, perché qui le condizioni meteo ma anche i campi di regata sono davvero invidiabili. Prima del raduno con Francesco Bertone, sempre a Taranto Onda Buena si era fatta promotrice di un altro incontro con il tecnico di fama internazionale Simone Malaguggini, allenatore della squadra svizzera e coach anche di quattro team italiani. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media. È tutto, al prossimo notiziario.